grazie eccomi qua con il mio caro amico Giorgio Labrinopoulos il protagonista di questa serata il suo libro L'Italia dei Giganti Pegasus Edition ha riscosso molto successo un commento a fine evento sono felice che stasera a parte scherzi per la serata che l'hai organizzata a te in un modo pacesco ti ringrazio ringraziamo Paolo Marioni che è stato l'artefice del coordinamento di questo evento a Sutri ovviamente l'amministrazione comunale Vittorio Sgarbi e quant'altro hanno contribuito a questo bel evento veramente ringrazio Vittorio Sgarbi la mia amica Stefania Craxi e il collega Bucarelli a parte te che sei stata come ti ho detto magnifica è stata una bellissima serata ti ringrazio e andiamo avanti questo libro in silenzio sta andando avanti quest'Italia dei Giganti piano piano è un libro attuale non passa mai perché è un libro di memoria storica infatti non passa mai Elisa perché i personaggi che hanno guidato l'Italia negli anni 80-90 hanno portato il paese ai massimi che non esiste più in senso che loro avevano nella testa che la popolazione come andare bene l'Italia capito che ti voglio dire ma oltre che andare bene l'Italia pensavano anche la popolazione oggi come oggi ce lo chiede l'Europa ma ce lo chiede l'Europa e basta serve il 25 settembre che uscire una classe politica che ama questo paese come lo amavano a mio avviso loro e come lo ami tu che da tantissimi anni che sei cittadino italiano innamoratissimo innamoratissimo grazie George grazie